Raga, sto andando dal mio fratello a... Dai, questo, ricordo. Don't give me a go. Tieni. Apri! Apri! No, 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 scusami, eh. Scusami, vieni qua. Non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ecco, fai vedere agli iscritti. Anche l'altro è quello che ti stai. Questo è un video perché ne avevo fatto. Non so, perché questi sono 5.000 v-back. 5.000. Apri anche questo, eh. No, pochissimi. Chiudi gli occhi. È un altro regalo. Chiudi gli occhi. È un altro regalo. Sì, chiudi lì. Primo foglio. Bello. Come si chiude? Ma se non è un sacchetto delle segure, non mi viagli. Come c'è? C'è anche una... Guarda. Posso prendermela io? Sì. Cosa? Prima cosa peschiamo quali saranno di più. Mi dice che ho peschato un nuovo. Guarda, c'è anche questo. Ma questo lo devi tenere a loro, il sacchetto. Ma questo... Cosa? Questo lo vuoi tenere? È un'altra carta. Il sacchetto del Mila, lui lo vuoi tenere. Lo vuoi tenere? Per fare? Ma lascia di questo vuoi tenere. No, e te mi serviva per la carta. Rocco, ci sono anche gli adesivi. Ci sono anche gli adesivi, non sai? Vediamo gli adesivi. Bellissimi. Mamma. Mamma. Caricola la carta. Mangia. Mangia le varie aggiunti. Oh, ma quanta roba, eh? Stiamo esagerando qua, eh? Oh, questo è il tuo nuovo amico? È il tuo nuovo personaggio, vero? Sì. Sono le spiglie. Calamuccio. Che bello, Calamuccio. Grazie. Diego, vieni. Diego, vieni. No, perché questo è un po'. Perché? Per colpese, questa va in un certo. Però, se vuoi... Prego. Puoi chiudere, perché? Chiudimi tutto qua dentro, che lo terrò per tanto tempo. Tieni. Metti dentro. Vado per troppo... Vengo. Tieni. Grazie. Rocco, non mangi? Sì. Ragazzi. Guardate, è stato molto condito, di antica Roma. Molto. Allora, che ne pensi? Posso un attimo? Sì, sì, che adesso mangi. Ehi, ciò. Ehi, ciò.